Ciao a tutti e benvenuti su Amico PC quest'oggi vi insegneremo come limitare la banda in download e upload degli aggiornamenti di Windows 10 tramite Windows Update come sapete Windows 10 si aggiorna spesso e la banda a disposizione di default è piena quindi se esce un aggiornamento corposo il sistema utilizzerà tutta la banda che avete per scaricarlo a discapito ovviamente della vostra qualità di navigazione o altro quindi se volete dare un freno a questo e limitare la banda non dovete far altro che accedere allo start di Windows, impostazioni, aggiornamento e sicurezza, opzioni avanzate scendiamo verso il basso, ottimizzazione recapito, scendiamo, opzioni avanzate da qui potete settare dei limiti di download e caricamento quindi avete la possibilità di dire al sistema operativo guarda quando esce un aggiornamento non usare tutta la banda a disposizione per scaricarlo o caricarlo se avete più PC connessi alla stessa rete ma utilizza solo una certa percentuale da noi prefissata grazie a tutti Grazie a tutti